Due splendide medaglie d'argento. E' questo l'ottimo bottino della catanese Anastasia Insabella che nei campionati del mondo junior e under 23 di canoa velocità, con cui si oggi applaudi, si conferma fra i migliori giovani dopo l'oro vinto a Bratislava negli europei. La quattordecenne canonista, tesserata per lo Yomar Club Catania, porta in alto i colori della nazionale azzurra e nella categoria junior, contro l'avversario più grande di lei, riesce a conquistare due ottimi secondi posti. Anastasia Insabella sale sul secondo gradino del podio nel K2 misto, sulla distanza dei 500 metri, in coppia con il cremonese Enrico Laudati. Con il tempo di 1'39'533, gli azzurri cedono il passo soltanto all'Ungheria, che vince la medaglia d'oro in 1'38'503. Al terzo posto si piazza la Cina, con il tempo di 1'40'458. Grande imprese dei due canonisti italiani all'Olimpica Arena di Plovdiv. Oggi nella giornata conclusiva la rossa-azzurra Anastasia Insabella concede il bis e si mette al colo la medaglia d'argento nel K1 solo a distanza olimpica dei 500 metri. In acqua 2 l'Etnea è una Leonessa e contro le migliori giovani del mondo riesce a sfoderare una prestazione super. La canonista catanese chiude al secondo posto in 1'57'693. Vittoria per la tedesca Caroline Heuser in 1'54'715. Terza la spagnola Iaiza Novo in 1'58'607. Ancora festa azzurra e rossa-azzurra durante la cerimonia di premiazione. Grande felicità e lacrime di gioia per papà Daniele Insabella, vicepresidente di Feder Canoa e per mamma Francesca Mazzullo. Anastasia nella storia della canoa italiana per essere l'atleta più giovane di sempre a vivere da protagonista un evento così importante come il mondiale vincendo ben due argenti più l'oro europeo di Bratislava. Sono felicissima, dichiara Anastasia Insabella, ci ho sempre creduto. Già per me era un sogno la qualificazione alla finale ADRK a 1'500 metri. Ai blocchi di partenza mi sono caricata al massimo. Dedico queste medaglie a mio padre, alla mia famiglia, a me stessa e a tutto il circolo qua no a Catania. E consolidare questa posizione da medaglia. Adesso vediamo un attimino gli ultimi 150 metri. Le ragazze sono appaiate. Anastasia viene veramente molto bene fuori Gianmarco. Abbiamo una... La Spagna, la Spagna a fianco che fa impressione ma Anastasia non molla. Che finale pazzesco. Danio sta succedendo di tutto in questa gara. Sì sì no ma infatti sta tenendo tantissimo. perché qui abbiamo i genitori che stanno morendo a fianco. Si alza il coro dei tifosi italiani. Danio un finale pazzesco. Sì sì non sta mollando un colpo, sta tenendo benissimo la velocità della barca. Ecco c'è l'arrivo. L'arrivo arrivo. Siamo sul finale. Anastasia Pizzabella. Mamma mia Danio che ha combinato. Vice campionessa del mondo. Spettacolo, spettacolo di questa ragazzina giovanissima che ha saputo interpretare una gara con una freddezza.